Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, buon martedì 9 novembre a tutti. È già da qualche giorno che volevo fare un video sull'artefice di questo Milan, di questi successi, di questa prima fase di stagione. E poi per celebrare il mister che negli ultimi due anni, il personaggio, il mister, ormai l'ho svelato, che negli ultimi due anni in qualche modo ci ha riportato ai vertici del campionato italiano. Stiamo parlando di Stefano Pioli. Allora, in questi giorni stavo pensando all'articolo, al video su Stefano Pioli e in qualche modo prendo spunto da un titolo di un collega, Manuel Del Vecchio, che ha titolato così un articolo La miglior partenza della storia del club. Pioli, simbolo di competenza, studio e modernità. E quando ho letto questo titolo ho pensato, questo titolo riassume chi è Stefano Pioli, riassume tutto il lavoro fatto in questi due anni e mezzo dall'allenatore del Milan. La miglior partenza della storia del club. Perché? L'abbiamo detto ieri perché se lo fosse perso. Questa è una statistica riportata a Opta. Il Milan, nella classifica dei tre punti, ha avuto la miglior partenza della storia, con 32 punti conquistati su 36, frutto di 12 vittorie, due paregge e zero sconfitte. Un rullino di marcia davvero impressionante, una partenza mai vista, una partenza forte, una partenza figlia del grande lavoro di Stefano Pioli e del suo staff. Pioli, simbolo di competenza, studio e modernità. Studio e competenza possono essere in qualche modo vicini come termini, ma in qualche modo possono essere collegati. Perché allo studio? Perché Stefano Pioli è un allenatore che ama formarsi, ama informarsi, ama approfondire, è un personaggio curioso, un personaggio molto attento a quello che succede attorno al mondo del calcio, a livello tecnico, a livello tattico. È un mister che studia tanto gli avversari, che studia come evolve il calcio. Il calcio italiano, il calcio europeo, il calcio internazionale. Stefano Pioli è un grande appassionato di calcio, l'ha manifestato e l'ha già raccontato diverse volte in alcune sue interviste. In particolare è un grande amante della Premier League. E molti concetti, in qualche modo, questo calcio propositivo, questo calcio veloce, questo calcio intenso, arrivano probabilmente da questo studio, a questa sua vocazione per il calcio inglese. Stefano Pioli è un grande studioso di principi di tattica, di tecnica. E questo da cosa lo capiamo? Perché il mister, in qualche modo, ha rafforzato l'idea in questo gruppo di due principi di gioco davvero molto importanti. di spazio e tempo. Due concetti importanti, perché il Milan, ricordiamo tutti, l'abbiamo detto ieri, una curiosità, una statistica di cui nessuno parla, ma davvero importante. Trovate tante curiosità, tante statistiche sul sito della Lega Serie A. Il Milan è la squadra al sedicesimo posto per chilometri percorsi. Questo cosa vuol dire? Una squadra organizzata, una squadra, in qualche modo, che sa come correre, che sa ottimizzare tempo e spazio, che non spreca energia, che dosa energia e che, in qualche modo, sfrutta la forza, in qualche momento, in maniera ottimale, efficiente. Ecco perché tanti parlano di intensità. Intensità nello spazio, intensità nel tempo, intensità in maniera corretta. E tutto questo studio porta ad avere competenze, competenze che il mister ha, competenze trasversali, non solo in ambito tecnico, non solo in ambito tattico, ma anche competenze psicologiche, relazionali, gestionali. Perché il mister ha plasmato un gruppo prima su questi aspetti. Un aspetto relazionale, un aspetto gestionale, ha gestito in maniera ottimale e sta continuando a gestire il gruppo in maniera ottimale a livello psicologico. Tutti si sentono parte del progetto, tutti si sentono, in qualche modo, remano nella stessa direzione. È il caso di Tatarugianu, che molti tifosi, dopo un infortunio di Magnana, hanno espresso grande preoccupazione. Hanno in qualche modo anche invocato la titolarità di Mirante, che è arrivato al Milan per qualche modo per sopperire all'assenza di un secondo portiere. Invece Stefano Pioli, considerato che comunque Mirante è un portiere di buon livello, ha preferito dar fiducia a Tatarugianu, non rompere l'equilibrio dove ogni giocatore appartenente alla Rosa del Milan è un elemento importante e prezioso. E poi ogni giocatore sta dando il massimo per ripagare questa fiducia. C'è il caso di Tatarugianu, che è stato l'eroe del derby, con rigore parato su Lautaro Martinez. E poi, soprattutto, il mister, in qualche modo, è sinonimo di modernità, di un calcio, come viene definito dal nostro amministratore delegato Ivan Gazzidis, un calcio progressista, dove il Milan vuole giocare un calcio sempre propositivo, un calcio di dominio, un calcio, in qualche modo, intenso. Un calcio in cui il dominio dell'avversario arriva attraverso un leader. Il leader, il gioco. Il gioco collettivo, un gioco dove tutti i giocatori sanno interpretare bene spazio e tempo. In qualche modo, giocando con intensità, giocando con qualità, giocando un calcio piacevole, un calcio che piace a tutti i lavori, un calcio che piace anche ai giocatori che si divertono, in qualche modo, e così rendono davvero di più. Quindi, se è la partenza migliore del club, lo dobbiamo tanto al nostro mister, al suo staff, che stanno continuando a fare un lavoro davvero importante e davvero meraviglioso. Complimenti, mister, complimenti da Rubrica Rosso Nera e complimenti da tutti i tifosi del Milan. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, questa analisi vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerla, di schiacciare al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.